Pagelle di Juentus Cagliari che questa sera in via del tutto eccezionale sono sponsorizzate dalla Disney con il nuovo film appunto che uscirà in tutti i cinema e c'è stata l'anteprima questa sera allo stadium il bello addormentato tra i pali ovvero Chesney che l'unica palla che è arrivata in porta del Cagliari in realtà ne sono arrivate due e abbiamo rischiato di prendere due gol sul secondo lo dico per gli sbadati nonostante che i telecronisti ci abbiano provato lui non l'ha presa la palla si è tuffato in ritardo e la palla fortunatamente si è stampata nel palo altrimenti prendeva il secondo gol sul primo dormiva proprio beatamente con la papalina e proprio tranquillo come se non fosse neanche in campo e abbiamo preso il gol che di fatto ha portato l'inerzia della partita verso il Cagliari quando un portiere è in serata sapete che non ho nessun problema dargli sette addirittura qualche volta anche otto quando invece dorme e si addormente come è capitato anche nel nostro grandissimo Gigione Buffon non posso dargli più di cinque e sono buono perché se non prendeva il palo ad Ossena gli davo due perché avrebbe preso due gol su due dormite colossali cinque scesni Gatti sei Gatti mi è piaciuto però Gatti deve imparare ad osare la sua foga la sua eccessiva energia fisica è prorompente sto ragazzo però i colpi di testa che fa sono sono esagerati gli spara un po' alle stelle è molta molta erruenza poca sostanza però difensivamente non si può dire nulla da quando c'è lui con Gatti con Bremer e con Rugani la difesa tiene abbastanza bene perché ripeto il gol è una dormita di scesni non ha nessuna colpa alla difesa calcio piazzato quindi va beh comunque al di là di questo sei a Gatti ora vorrei parlare di Bremer che sapete tutti quanti io sono felicissimo di averlo alla Juventus per me diventerà uno dei centrali difensivi guardate io quando penso a Bremer che è giovane e che è secondo anno nella Juventus penso a Tiago Silva il grandissimo difensore brasiliano del Milan che è stato per anni uno dei più forti centrali del mondo e lo invidiavo al Milan io credo che presto avremo uno dei centrali difensivi più forti del mondo ovvero Gleison Bremer oltretutto se questa sera ci mette anche la ciliegiona non la ciliegina sulla torta del gol tanto bene 7 a Gleison Bremer ora veniamo a Danielino Rugani colui che io battezzai tempo addietro Shagura che ultimamente mi sta stupendo e io sono felicissimo perché ricordatevi che nella vita avere idee per le concette è la cosa più sbagliata che esista bisogna avere l'obiettività l'oggettività di ammettere quando si è sbagliato di ammettere quando si ha una valutazione che non è corretta Daniele Rugani sta giocando benissimo non sta facendo rimpiangere né Sandro né Danilo che per me possono rimanere in infermeria sine die come si dice in latino e quindi io do un bel 7 anche a Daniele Rugani che anch'esso questa sera ha segnato se i centrali difensivi come ho detto nel video dell'analisi fanno le veci dei centravanti è pericolosa questa cosa perché non sempre ti va bene con i calci piazzati soprattutto di Kostic che ultimamente sta migliorando molto da questo punto di vista e ovviamente con i gol fatti dai centrali i gol in realtà dovrebbero fargli le punte ma questo è un problema del centrocampo veniamo al centrocampo McKennie McKennie però è un corpo estraneo in un centrocampo vergognoso in un centrocampo imbarazzante in un centrocampo, lo ribadirò fino all'ultimo dei miei giorni non è da Juventus perché gente come Locatelli, come Miretti non sono giocatori da Juventus McKennie è un raggio di sole che filtra nel buio McKennie è completamente un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto e con Pirlo e l'anno primo anno con Allegri e metà anno l'anno scorso giocatore completamente differente in senso positivo non ha sbagliato una giocata difende, lotta, interdisce passa la palla, tira, si propone negli spazi questa sera McKennie nettamente, tanto per cambiare migliore in campo e si prende pulito pulito un otto se noi avessimo altri due o tre McKennie come lui questa Juve sarebbe già prima non avremmo pareggiato col Bologna non avremmo perso col Sassuolo non avremmo pareggiato con l'Atalanta che poi tutto sommato sono le uniche tre partite che abbiamo steccato a livello di risultato bravo Weston sono contentissimo perché se c'era un detrattore in Italia ero io ma probabilmente l'influenza di Quadrado ti danneggiava guarda cosa mi sono convinto non c'è più Quadrado e tu sei diventato un ragazzo maturo e serio e giochi bene a calcio Miretti allora questa sera non c'è un peggiore in campo perché ha giocato male Schens non mi è piaciuto Schens non mi è piaciuto Miretti non mi sono piaciuti altri ma Miretti signore Miretti cioè è imbarazzante fa una cosa buona è come Cimabue fa una cosa ne sbaglia due cioè fa una cosa buona dici cavolo però dai ha fatto una cosa buona perché ha fatto un paio di cose buone ma poi sbaglia gli appoggi fa dei lanci senza senso per nessuno butta via i palloni si fa prendere il pallone è lento gli è capitata una palla che se fosse stata un po' veloce tirava poi magari la buttava fuori magari portava la parava o magari faceva gol no è riuscito a farsi recuperare da un giocatore del Cagliari che era due metri dietro di lui è lento impacciato e soprattutto impreciso a me questo giocatore per adesso non mi ha conquistato poi magari fa come McKennie e io fra un mese o due o fra un non si sa quando sarò qua a tesserne le lodi per adesso a me Miretti mi è bari una strinuzzata come dicevo ogni 3-3 5 Lucatelli partita sotto tono veniva da alcune prestazioni di buon livello dove tutto sommato faceva vedere che non è poi così scarso non è che sia un'era di Dio ma non è neanche così scarso come spesso io l'ho dipinto però questa sera non mi è piaciuto aperture fuori fuori tempo interventi in ritardo coperture sbagliate insomma questa sera forse anche complice la botta che ha preso però lui tutte le volte che gli chiedeva Allegri come va come va gli diceva tutto ok tutto ok tutto che sembrava sembrava cosa sembrava già il cecchetto e quindi mi spiace ma più di 5 a Locatelli questa sera non posso dare anche perché il centrocampo questa sera è stato veramente imbarazzante Cambiaso ho indeciso se dargli 5 o dargli la sufficienza risicata ho optato per la sufficienza perché nel primo tempo Cambiaso giocando in un ruolo non suo perché Cambiaso che si sappia non è un un'ala destra e non è neanche un centrocampista ha giocato alla destra e centrocampista o quinto di destra come preferite voi e centrocampista intercambiandosi con McKennie però di fronte a un McKennie che non ha sbagliato nulla Cambiaso ha fatto una figura pessima rispetto a lui quindi poi ha fatto anche un erroruccio di concentrazione prima di uscire quindi gli do 6 proprio perché a me piace questo giocatore e nel suo ruolo naturale a sinistra secondo me alla lunga è meglio di Kostic anche se questa sera Kostic non posso dire nulla tant'è che Kostic questa sera do un bel 6 e mezzo partito male fa sempre un po' le giocate sbilenche poi però se prende mette a registro il piede e mette i cross come ha fatto questa sera che di fatto hanno dato una mano ai due gol della Juventus e poi poteva anche averne messi in mezzo altri io non posso che dargli un bel voto quindi 6 e mezzo Kostic Chiesa Chiesa da una mia parte si dice fago tutto mi traduco faccio tutto io Chiesa si sa che è il più talentuoso della Rosa della Juventus su questo non ci piove lo sanno anche i muri della continassa ma se tu però pensi di giocare da solo anziché giocare con altri 9 giocatori di movimento più il portiere non va bene non va bene questa sera è stato sintomatico il pre partita non so chi di voi l'ha visto io l'ho visto ve lo racconto la giornalista Giorgia Rossi che Dio l'abbia in gloria perché è una splendida ragazza oltre a essere brava come giornalista ha fatto notare che nei tiri che ha fatto pre partita nel riscaldamento non ha mai centrato la porta io che qualcosina ho fatto nella mia vita a calcio ho giocato un po' a calcio so che quando non è serata non è serata né nel riscaldamento né durante la partita quindi Chiesa ha continuato quello del riscaldamento anche durante la partita non ne ha imbroccata uno l'unico tiro decente ha fatto una telefonata a scuffè del Cagliari che gli ha detto grazie la palla la prendo io 5 non mi è piaciuto assolutamente gioca per la squadra Chiesa non da solo Ken Ken veniva da prestazioni buone dove io l'ho premiato però Ken è un centravanti cioè come quando uno a scuola si impegna ma fa fatica a arrivare alla sufficienza no? si impegna ok io premio l'impegno di Ken ma Ken non ha qualità è un centravanti senza qualità è un centravanti che vive di momenti entusiasmanti poi si spegne poi si nervosisce poi si insomma è da aprile che non fa gol diciamo le cose come stanno è da aprile che non fa gol e ci sarà pure un motivo non credo che siano gli astri che convergono in maniera negativa su di lui e sono contento che Allegri l'ha tolto perché questa sera tra l'altro si è mangiato un gol che era già fatto perché se tu stoppi quella palla sull'invito di Chiesa unica cosa buona che ha fatto Chiesa questa sera giocando per la squadra appunto avrebbe potuto bagnare finalmente il campionato con un gol invece purtroppo ha fatto l'ennesima partita di tanto impegno ma di poca sostanza 5 Ealing Junior 6 perché ha dato ha messo movimento ha dato una mano nel secondo gol perché ha tenuto alta la squadra di fatto i cambi che ha fatto Allegri li ha fatti per tenere l'altra la squadra perché si era abbassata troppo la Juve e stava subendo in maniera in vera e conta il Cagliari ne ho promosso in Serie A lo sottolineo non abbiamo giocato contro Real Madrid contro il Paris Saint Germain contro il Liverpool contro il City o contro il Bayern di Monaco abbiamo giocato contro il Cagliari e una squadra che fa fatica con Lecce col Cagliari col Verona un po' di preoccupazioni a me le dà oh contento di essere secondo però preoccupazioni io le ho Ealing 6 Vlaovic 6 ha giocato per la squadra lui veramente si ha giocato per la squadra ha messo in mezzo dei belli palloni è scappato un paio di volte sul lungoline e ha messo in mezzo un bel pallone insomma questa sera credo che Vlaovic fosse in serata peccato non averlo visto dal primo minuto non si è ancora capito perché Allegri stia premiando Kenne perché ripeto è da aprile che non segna bene o male Vlaovic i suoi 5 gol li ha fatti quest'anno in questo campionato quindi misteri di Max Allegri Milik e Nicolussi SV perché gli ha fatti entrare in campo ormai a partita dove praticamente il pallino ce l'aveva solo il Cagliari sono stati molto bravi tutti e due sia Nicolussi che Milik ha detto senza dargli il voto a tenere alta la Juve e a fare in modo che non recuperassero i palloni quelli del Cagliari ad Allegri do 5 perché non mi è piaciuto lo schieramento della squadra non mi è piaciute le scelte non mi sono piaciuti i cambi tardivi non mi è piaciuto come l'ha impostata e soprattutto deve cominciare a farsi sentire se non è lui se non è lui il colpevole perché io non lo posso sapere deve cominciare a far capire alla squadra che quando la Juve è in vantaggio non deve tirare in barca soprattutto quando è un doppio vantaggio perché di fatto il gol del Cagliari ha messo benzina sprint energia al Cagliari e abbiamo passato gli ultimi 12 minuti più i 5 di recupero quindi 17 veramente a patire le pene d'inferno con il rischio che se capitava una palla in area e Dossena ci è andato molto vicino a fare il 2 a 2 dopo rovinavamo veramente la pausa Piccinini sciabolata morbida eh no sto scherzando non è il figlio del telecronista non mi è piaciuto per niente è il classico arbitro che per far vedere che lui non è suddito o non ha sudditanza psicologica nei confronti della Juventus ha ammonito solo quelli della Juve facevano i falli quelli del Cagliari tutto regolare facevano i falli quelli della Juve li ammoniva ora non me ne frega una cippa lippa però secondo me non è corretto se tu ammonisci ammonisci da ambo le parti non soltanto alla Juventus per far vedere che tu non sei servo della Juventus tutto qua se vuoi fare carriera Piccinini cerca di essere corretto non devi aiutare la Juve assolutamente noi non vogliamo aiuti vogliamo equità di giudizio in campo e tu questa sera l'equità non l'hai avuta perché davano gomitate in faccia a quelli della Juve faceva signorizzarsi facevano finta di prendere gomitate quelle del Cagliari due volte hanno fatto finta presi qua si sono messe le mani ammonizione dei giocatori della Juve e punizione per il Cagliari quindi Piccinini mi dispiace bocciato 4 io vi auguro a tutti quanti una buona domenica ci vediamo sicuramente o domenica sera o lunedì mattina con il punto perché chiaramente aspetto la partita dell'Inter per vedere se saremo primi o se torneremo per la seconda volta secondi cosa molto più probabile e poi dopo ci si vede sul canale quando ci saranno le opportunità di parlare di cose interessanti e non di cose futili e inutili buonanotte a tutti e come sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti